Durante l'edizione 2024 del Festival di Sanremo, uno scambio di battute ha acceso i riflettori su Albano Carrisi e il celebre showman Fiorello. Il cantante, noto per la sua lunga e illustre carriera, si è ritrovato al centro di un'attenzione particolare non per la sua musica, ma per una questione familiare. Il nome del suo ultimo nipote, Alex Lupo, scelto dalla figlia romina, è diventato oggetto di scherzi da parte di Fiorello, provocando una reazione da parte del nonno celebre. Prima di proseguire, facciamo una pausa e riflettiamo insieme. Cosa pensate della scelta dei nomi unici per i bambini e delle reazioni che questi possono scatenare? La battuta di Fiorello vi sembra un semplice scherzo tra amici o un passo falso? Condividete la vostra opinione nei commenti, alimentando il dibattito su questo delicato argomento. Albano, visibilmente toccato dalla situazione, ha espresso il suo disappunto non solo per l'esclusione dal festival, ma soprattutto per le parole di Fiorello, che non hanno risparmiato nemmeno il piccolo Alex Lupo. Fiorello è un caro amico e so che non aveva cattive intenzioni, ha dichiarato Albano a di più tv, ma mia figlia Romina si è sentita offesa, e io, con affetto, gli ricordo di essere più cauto. La risposta di Romina Pao non si è fatta attendere. Schernire il nome di un neonato mi sembra di pessimo gusto, ha commentato, definendo l'azione un'inutile crudeltà piuttosto che umorismo. Albano, cercando di placare gli animi, ha ribadito l'importanza di proteggere i più piccoli dalle battute pubbliche, soprattutto in un momento delicato come quello post-parto vissuto da Romina. Ha poi aggiunto, nel mondo dello spettacolo esiste una regola non scritta, si può scherzare su tutto tranne che sui bambini. Il nome Alex Lupo porta con sé un significato profondo. Axel, di origine ebraica, significa signore della pace. Un messaggio positivo in questi tempi turbolenti. Il cognome Lupo riflette l'ammirazione di Romina per quest'animale, simbolo di forza e libertà. Albano non esclude un confronto diretto con Fiorello. Quando sarò a Roma, potrei fare un'apparizione a sorpresa nel suo show per chiarire le cose personalmente.